Oh my god, un applauso, vai ragazzi! E Ernesto? Allora, siccome registriamo un pezzo di programma che adesso in Italia 1 possono essere migrato, facciamo una cosa, siccome Ernesto fa un po' il brillante, mi ricordo, un attimo, perché tutti i stibali facciamo una roba, anche un lento, però devi scegliere una partner, una partner a caso, una a caso, una a caso, una partner a caso. Adesso, mi prendi una sedia? Come ti chiami? Francesco, regola 1. Grazie Francesco. Allora, abbiamo qua una mela, una mela, vediamo come se la cavano. Puoi registrare per fortesia? Adesso, un attimo, un attimo, accetti la sfida, no, perché poi c'è la penitezza, eh. Accetti la sfida? Qua, qua. Allora, potremmo partire una canzone dove... Scusa, Maria, Maria, metti il pezzo, Maria! Maria! Maria, metti il pezzo! Ma chi è Maria? Eh, una colizia che vuole che si ho! Scegli, 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 scegli. Questa è la fine della canzone, se non c'è la penitenza, mi piace? Presto! Allora, chi vuole parlare, balla. Chi vuole fare il tifo per essere la signora, fa il tifo. Qui, signora! Presto! Dai, dietro le mani, dai! Fate il tifo, un applauso! Un applauso! Non è che può ballare tutti questi balli, sono bene. Una borsica, signora, occhio, è rido, eh, si taglia il dito della velita. Vada, vai, 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 dai! Ernesto! Eh, poi, venite per Ernesto. Vada, signora, sta andando alla grande! Dai, dai! Dai, che adesso prendiamo anche le pesche! Vai! Ernesto! 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 Tutti insieme! Ernesto! 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 Un applauso Ernesto, signora, signora! Signora si chiama? Angela! Allora, Ernesto, da domani tu non ci sei più, basta, e Angela farebbe il gruppo. Bravissimo, signora! Oh, la mela! Attenti con la mela! Dimmi, dimmi! Cosa dobbiamo fare? Cosa abbiamo in programma? C'è qualcos'altro in programma? Allora, vediamo, eh! Maria, fai partire! E allora, coreografia, coreografia! Correnti, coreografia! Tu dai! Questa, questa è bella, eh! Questa, questo è io! Sei pronto? Vado su! Eeeh, eh! Eeeh, eh, eh! Eeeh, eh, eh! bravo, bravo, è Ernesto, Maria Ernesto è bravissimo, io direi, vai vai vai, avanti con la coreografia, una sfida, tra te e Ernesto, dai, vediamo, una baciata, ce l'hai una baciata? una baciata veloce, sfida, lui contro Ernesto, vediamo, ce lì chi vuoi, no Angela no perché sennò vincete facile, vincete facile, siete già affiatati, tu scegli una, scegli una anche te, allora io do il via la baciata, pronti per la baciata, scusi, la baciata è un ballo, sì 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 no, sto chiedendo se è capace, no vabbè, allora poi votiamo, pronta Maria? Via Maria! vai, 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 allora, allora, spostatevi da questa parte bene Ernesto e da questa parte da Roni, mi trovo, vai, vai, guarda, guarda, siamo siamo a Mari, uauvi, fai qualcosa, tirlo sulla gamba, dai che stanno andando tutti dire, Ernesto, vieni, 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 vien, vieni, 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 ha vinto, eh,mens, guarda Ernesto, guarda, guarda, tutti da, no, no, non ce l'è, senti cosa abbiamo in programma adesso? va bene ragazzi abbiamo scherzato vi rilasciamo con loro facciamo l'ultimo balletto io lui è una coreografia che abbiamo pensato da un po di tempo adesso mi spiace però fai vai maria quando vuoi maria se lo ballo come a gusto senza musica se ce la facciamo sei pronto tu vai nell'angolo nessuno mette arcangelo nell'angolo il resto vieni su ti do il microfono di questo ballo di fare un ballo con lui grazie a tutti grazie a tutti è il nostro ultimo momento è finita vi rilascio con Ernesto ragazzi poi se non riuscite perché ho qualche problema sono preoccupati non c'è più acqua non c'è più acqua ragazzi siete state bravi un applauso a loro che non hanno fatto niente e sono state le migliori lo staff finiamo con lo staff con lei dov'è la regina poi è un c meglio dai Ernesto però attento al bambino hai affogato un bambino poi c'è ragazzi Ernesto non sento non arriva a fine stagione non arriva a fine stagione un applauso Ernesto ma non c'è più niente e poi sono qua loro e allora le due regine splendide ballerine ballerine le due le due loro un applauso no ma perché cos'è un applauso forte un applauso forte ciao a tutti ciao a tutti dai Ernesto fatti ballare però eh e meno male che si scivola se no siete inchiodati un applauso però una persona che non si fa mai Maria che mette sempre la musica e che è veramente la colonna portante grazie grande Maria grazie basta basta grazie 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 grazie